Saluteal cliente Saluteal cliente Ehi genio ci sei? Ti ricordo di quella bellissima casa da 198.000 La voglio acquistare a 150.000 E' senza proprigioni Aradine Il cliente da lì desiderato non è al momento raggiungibile. Ma cosa mi sta succedendo? Stress. Ammuccio. Ammuccio. Forse ho bisogno di una lunga pausa. Forse ho bisogno di una lunga.